io avevo messo anche le storie su instagram giù quella sera che un paio di tizie mi hanno rapito in un bagno ma no forse questa è un'altra storia e mi sono confuso luna allora adesso non dobbiamo fare no qua mi vedono sei stronzo allora how to fuck the system how to fuck the fucking system perfetto non ho insidioso allora ce ne andiamo da un'altra parte ragazzi bannabile no 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 è tutto calcolato è tutto calcolato è tutto calcolato è tutto calcolato no 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 non c'è bisogno di insidioso non vi preoccupate adesso baitiamo adesso baitiamo aspettiamo che chiudono i gen coglione angolino angolino poi si attiva il no e si attacca è dietro di me aspetta che chiudono l'ultimo non c'è 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 Eccolo I totem qua sono belli che nascosti Quindi non penso che li facciano tutti Eccolo 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 Emo sono uccelli senza zucchero Ne sono tre Dov'è il quarto uccello? Eccolo Eccolo No Basamento? Sono più contento Ah qua Barbecue ci avrebbe aiutato Ci avrebbe aiutato un sacco Il Barbecue in cili Ressato l'amico Fritz Sì 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 Arresi? Ma che si curano questi? Uscita a 99 No Eccolo Eccolo E due ci lasciano L'altro tizio è lì Eh no quello esce Quello esce purtroppo Ma c'è blood Nooo Un secondo prima Ma è attivo o no? Non ci credo Ma c'è o non c'è? Io lo vedo carico ragazzi C'è blood warden C'è blood warden Regà c'è blood warden E' attivo E non è potuto scappare Nooo vabbè Nooo vabbè Quattro su quattro E abbiamo sfruttato pure blood warden Oh vabbè Senza insidioso E' senza insidioso ragazzi Senza insidioso Nessuno Ciao 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 Grazie a tutti.